Mercoledì 8 marzo 2017, 67esimo giorno dall'inizio dell'anno. Oggi è la festa della donna. Auguri quindi a tutte le donne. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda San Giovanni di Dio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Beata. Accadde oggi. L'8 marzo del 1918 si registra il primo caso di influenza spagnola. È l'inizio di una devastante pandemia che ucciderà almeno 20 milioni di persone nel mondo. Chi è nato oggi? Oggi facciamo i nostri auguri al cantautore Antonello Venditti, nato a Roma l'8 marzo 1949.